Ti sei innamorato dell'atletica guardando in tv i grandi talenti italiani alle Olimpiadi? Oppure vuoi semplicemente saltare, correre o lanciare imparando a farlo in un vero e proprio gruppo di amici? Trieste Atletica ti aspetta! Partono a settembre infatti gli open day gratuiti per tutte le categorie, dai piccolissimi ai ragazzi delle scuole superiori. Per accedervi non occorre il Green Pass e tutte le indicazioni del caso sono contenute al sito web triestatletica.com Siamo pronti, siamo all'inizio di una nuova avventura, quindi il 2021 inizia così per proseguire nel 2022 iniziamo a settembre, i primi di settembre con gli open day esattamente il 7, dal 7 a 14 i nostri open day saranno a Campocolonia tutti i giorni fra le 17.50 e le 19 con due orari differenti si potrà ovviamente segnalare online per chi vorrà partecipare ai nostri open day dalle categorie più piccole, quindi dei 6 anni, fino ai più grandi, 17 anni. Quindi tutti quanti avranno la possibilità di provare a seconda appunto delle categorie, trovate le informazioni per appunto avventurarsi in questa nuova casa dell'atletica leggera che è di Trieste Atletica. I campi d'allenamento sono quelli tradizionali dell'associazione, lo stadio Grezzar e Campocolonia, due teatri dello sport triestino in cui far crescere gli atleti del futuro, con da una parte la missione di distinguersi ad ogni livello, ma in primis di avvicinare lo sport e di renderlo accessibile a tutti, partendo dal gioco in movimento con l'aspirazione poi di crescere grazie a istruttori, esperti e qualificati.